Ciao ragazzi, benvenuti e benvenuti nel mio canale, io sono Magnus, siamo sempre qui su Lego Harry Potter Porca miseria, sta avendo un successo tremendo, pur essendo una serie, come dire, retro, vi sta piacendo? Mi fa piacere, naturalmente come se vado un video come se vado, mettiamo un pollice, zoom, per commentare un bel piacere Nel scorso episodio siamo riusciti a volare, oggi che cosa faremo? Chi può dirlo, continuiamo la nostra storia, allora, vediamo di capire in dove dobbiamo andare Scusami Harry, fai la strada così, non penso che dobbiamo bloccare queste cose, no, infatti no, non credo proprio Ah, eccoti qua, l'avevo perso, lo sai, non sappiamo dove andare Se mi porti più celermente, possiamo... ok, da qua possiamo andare Allora, ok Ah, tagliamo da questa parte Sai che a volte... non capisco... ok Perché adesso abbiamo acquisito un sacco di abilità, ragazzi, guardate qua Ma veramente tante, e quindi conviene essere anche abbastanza preparati Se no poi non capisco una mazza, vabbè Andiamo da questa parte, se no qua ci perdiamo Ok Non puoi usare cadere di finché... finché... Vabbè, allora, che cosa possiamo utilizzare? Forse questo, vediamo un po' Ok Allora mi ricordavo bene Infatti, quando fai parecchi giochi, poi alcune cose te le dimentichi Chi è? Vabbè, non ti preoccupare... Cioè, non ti preoccupo... perché parli in terza persona? Non vi preoccupate che... Sicuramente impariamo Allora, qua penso che dovrei utilizzare... no Allora, proviamo a fare così Vai Ecco Non avevo la ma... ah, ma la scopa sta da quest'altra parte È perché... ah, stiamo tornando indietro, ragazzi Oh, ci piace quest'albero Ho, ho, ho È Natale Oh, ebbè, mi piace il regalo fatto al squadra Ma ti voglio dire un attimo una cosa, eh Per curiosità Ok Sì Ho visto musica, non vorrei che poi dopo ci bloccano l'impossibile Ok, siamo dentro Qua Aia Vediamo adesso Ecco Vai che possiamo scendere Beh, certo, non è proprio Natale in questo periodo, però Non c'è niente Oh, una maglia? Oh, abbiamo quindi acquisito la nuova abilità Non mi dire Sei nudo, Harry? Spezzo le gambine, ragazzo La sezione proibita Dai, pensa che abbiamo la nuova abilità adesso Non mi dire di no Perché a questo punto è il mantello Che cavolo ci hanno dato a fare Mantello dell'invisibilità Ok, Harry Ce l'ha soltanto Harry? Sì, ce l'ha soltanto Harry Ah, il mio re se ne è andata Vabbè, dai Proviamo a passare Ma porca mi si era pensato Allora, se provassimo a fare così Guarda, aspetta Ah no, mi fai partire da tutti da lontano Forse qua ci dobbiamo mettere Aspetta, andiamo un po' Se qua riesco a fare qualcosa Ok, ha fatto la dell'utilizzo No, di qua neanche riesco a fare niente Allora, di qua Nemmeno Ok, forse da qua non mi becca Vediamo un po' se è cambiando Ok Allora, dobbiamo becchiare Un po' di roba Da mangiare C'è un meglio C'è bisogno di Degli ingredienti segreti Quindi Iniziamo da Ok Perchè Hai buttato Ah, grazie Merci Infatti di cavità ero Ah, ok Allora facciamo così Eh, grazie Grazie Perfetto Siamo andati sopra Aspetta Ma questo è un libro Altro libro Ok Aspetta che forse Da qua riusciamo a capire qualcosa Ma perca miseria No, non è colpito qua Oh, oh, oh Che è sto cosa? Oh, ok Possiamo entrare? Che cosa abbiamo becchiato? Un ghiacciolo Bene così Quindi Il primo L'abbiamo becchiato Ora ci servono Un ragno E una piantina Quindi sopra Non ci dobbiamo più andare Io penso che dovremmo andare Sopra Dall'altra parte E dai Basta Ci saranno il tormento Però Pardon Scusate Qua non riesco a salire Ok Quindi Facciamo così Becchiamoci Il mantello Ci mettiamo qua sopra Ok 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 È morto Ah Fantastico Quindi a questo punto Facciamo così Aspetta Ah Me lo deve fare per forza Quest'altra Allora No No Raga E dai Grazie Meno male Che almeno giochiamo A volte un po' a cucchia Allora Questo l'abbiamo becchiato Penso Fammi se ci stava Cacchata cosa No Ok Allora La piantina lo so Che sta là L'abbiamo già vista Però non vorrei che magari Mi serve anche la carta corta Vabbè Ok Là c'è qualcosa comunque Quindi mettiamo la piantina Qua dentro Mi serve il ragno Allora Mi dai un attimo Una manassata Perché ho visto Che c'era Una ragnatela Quindi non vorrei Che magari Il ragno Sta qua dentro Il ragno Sta qua dentro Perfetto Abbiamo beccato Tutti gli ingredienti Alla grande Oh Sti libri C'è un altro tormento Perfetto Entriamo Vai Ancora Si è intrappolato ancora Allora Là c'è qualcosa Anche là c'è qualcosa Allora Inizierei Già da qua Aspetta che non vedevo niente Ok Qua 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 Me ne manca Soltanto uno Ah ok Me ne manca Ancora un altro Grande libri Uh ok Fantastico Bravo Non lo far cadere Che sono andato a mazzo Ok Ho beccato la chiave Vai La chiave è nostra Mi fa ridere Come la trasporta Ok Dovrebbe essere quella giusta A capire C'è solo questa Vai Vai Arriviamo No Allora Ok Questa l'abbiamo passata Di qua Questa non è capita No No Ok Qua si becca Ah c'è qualcosa in alto Mi sono se non sbaglio Ok Mi serve il topo Vai topo Vai Vai topo Vai Andiamo in Sì Ok Perfetto Libri giù Ah È un passaggio segreto Vai Ci siamo Anche ora E mo Chiamalo senza testa Porca misera Vabbè Mene male che se n'è andato Pensavo che ci fosse attaccare Ok 3 su 3 ma Non ho capito Adesso come facciamo Entrare qua dentro No Non credo che questa funzioni Ah di qua Di qua Ok No E questo non è un ingresso Scusami Non c'è niente qua dentro Aia Allora Proviamo a vedere Dove possiamo andare Però è strana È una fo Ah aspetta Forse lui ci dà L'indicazione Ciao 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 Ok Quello l'ho colpito Lassopra Forse c'è qualcosa Che dobbiamo colpire Anche da Ok Fantastico Becchiato Che è successo? Eh pardon Mi ho fatto un po' tardi Arriviamo Tranquilli Ma come nervoso Porca paletta Ragazzi Sto livello è stato Un po' strano Eh Insomma della casa Soltanto uno L'abbiamo beccato Vabbè lo sapete Che poi dopo Magari se vi piace Lo possiamo Riprovare E Accumulare Un po' Tutto Totale Gettoni Non male Qualcosa ne ho beccato Di più Dispetto alle altre volte Metto il cilidolo Così Ah ok Perfetto Ok ragazzi Anche questa parte Termina qui Naturalmente Come è stato Un video Come se Come tu E poi c'è Su Un bel commento Un bel mi piace Noi ci vediamo Nel prossimo video Bye